Se è un problema tra Firenze e lei oppure è un fatto che... Un problema tra Firenze e me? Non vuol dire un problema tra Firenze e me. Mettiamola con la Toscana, un problema tra me e la Toscana oppure un continente, l'Europa... Allora, che cosa porta via da Firenze? Porta via un punto difficile, meritato, difficile. C'è una partita complicata perché le squadre si sono affrontate a viso aperto per tutte e due. Ci sono state occasioni di qui e occasioni di là. La nostra linea difensiva un paio di volte nel secondo tempo ha dovuto lavorare in inferiorità numerica per 30 secondi, ha lavorato benissimo, perché poi ha sbrogliato un paio di situazioni su due palle perse al centrocampo di quelle che potevano diventare complicati. Allo stesso tempo Collini è stato bravo a fare un paio di interventi e la palla di testa di Lozano è una palla troppo facile per buttarla fuori. Poi, quello che alludeva lei al continente è che sono sempre gli stessi che ti vengono lì dall'inizio alla fine, la maiala di Tumà, la maiala di Tumà, la maiala di Tumà, la maiala di Tumà, è anni e anni e anni che sento dire le stesse cose, per cui bisogna prendere delle precauzioni. Se ci sono tre deficienti che stanno lì dall'inizio alla fine, che fanno questa maniera qui, bisogna dirglielo parte d'una, perché se no poi… ma da tutte le parti fanno così. Non è vero, a Napoli non lo fanno così. Nessuno gli dice niente alla panchina avversaria, all'allenatore degli avversari, nessuno gli dice niente, per cui poi Napoli, Napoli, Napoli. No, non Napoli, Firenze, se offrende la Firenze, non Napoli, perché è così dall'inizio alla fine la maiala di Tumà. E non è possibile, mia mamma ha 90 anni, povera donna, c'ho solo quella, non è possibile sentirselo dire tutte le volte che venga a giocare qui. È una roba impossibile la maleducazione, l'ignoranza di questo livello qui, è impossibile. Per 90 minuti, con dei bambini vicini che li guardano e che non capiscono e che probabilmente gli si dà un'istruzione di questo livello qui. La prima volta tutti insieme in una gara ufficiale, Don Belera, Spadori, Simeone, come li ha visti e a che punto sono sotto il profilo della condizione? Come li ho visti? Mi aspettavo qualcosa di più quando ho fatto tutti questi cambi, nell'ultimo quarto d'ora mi aspettavo…